A un certo punto sento... Dico mamma mia cos'è? Perché bene? Ha fatto troppo bene! E poi... Dico mamma mia... Il mio amico Dio mio... Dico ma che ci sarà un lupo? Ti prego di fatti chiudere dentro la macchina? Ti giuro... Non ho visto mai una cosa così? Due cinchiali... Alti così... I bambini... Sette, otto... Ero disperato e un altro cinghiale così... Io appena le ho viste mi potevano ammazzare anche, capito? Io morta così, guarda... Morta... E questa... Una delle paure più grandi della mia vita... Perché metti in casa che tu toccare un piccolo cinghiale... Amore ti avrebbero ammazzato... E tu che hai fatto? Hanno dei denti che sono enormi... Amore, vicino a me... Perché...